Orchestra Senza Spine porta al Teatro Nuovo di Ferrara la sua stagione Senza Spine et Teatro Nuovo di Ferrara. Quattro concerti all'insegna del divertimento, dell'essere under 35 perché tutte le produzioni sono fatte da giovani under 35 così come l'Orchestra Senza Spine è e i due direttori, il sottoscritto e Matteo Parmeggiani e quattro concerti all'insegna della qualità. La musica classica di altissimo livello perché i musicisti sono tutti selezionati a livello nazionale e sempre rivolti a un pubblico giovane che voglia avvicinarsi per la prima volta alla musica classica in maniera divertente e cercando di farli emozionare, di farli tornare a casa con la voglia e il desiderio di tornare a vivere la musica in teatro. Abbiamo deciso di approcciarci al repertorio operistico, quindi prima data è l'Isir d'Amore dove il pubblico parteciperà attivamente tramite dei laboratori alla costruzione dello spettacolo e anche durante il concerto stesso sarà attivo e partecipe in una produzione molto giovane, molto divertente che si propone di proporre in chiave pop la musica classica ai nostri coetanei. Secondo concerto, Bollicine, il classico concerto di fine anno, quindi il repertorio dalla tradizione viennese ma non solo, festoso, divertente e coinvolgente sempre. Il terzo concerto, Film Music, invece appunto come dice la parola stessa, è dedicato alle colonne sonore quindi faremo rivivere magici momenti dei più bei film, delle più belle colonne sonore musicalmente molto interessanti sia di derivazione americana, italiana e tanto altro, una serata magica. Il social concert che proprio sposa questa nostra volontà di far partecipare il pubblico perché la prima parte sarà il pubblico e non solo a scegliere il solista tramite un concorso che si chiama Classics Factor, un giovane solista e nella seconda parte tramite i social network potranno votare il programma che noi poi eseguiremo tramite i social network che poi noi eseguiremo qui a teatro la sera stessa.